Ciao e bentornati a Crochet Romance! In questo video vi voglio fare vedere come realizzare la copertina a righe diagonali che avete visto nella foto di anteprima e che vedete anche qui in sfondo. Prima di tutto vediamo quale materiale utilizzare per questo progetto. Io ho usato il filato bimbo wool di tre sfere e ho scelto di abbinare l'arancione, il blu e il verde, però voi ovviamente potete andare ad utilizzare tutti i colori che volete secondo il vostro gusto e la vostra fantasia. È un filato in 100% lana Merinos extra fine, irrestringibile e superwash e 50 grammi fanno circa 145 metri. L'etichetta ci dice che si lavora con i ferri colori, quindi ho l'uncinetto del 3-3,5, io in realtà ho usato i ferri del 4,5 per ottenere un risultato bello soffice. Ho usato i ferri circolari con il cavo da 80 cm, però potete usare anche i ferri diritti se preferite. Inoltre ci serve l'uncinetto numero 3,5 per rifinire il bordo come ho fatto io e vi mostro qualche altro filato che potete usare in alternativa al bimbo wool per questo progetto. Ad esempio, se non volete usare la lana potete optare anche per il filato Mon Amour della Mistrico Filati che è un 100% microfibra. Se invece vi piace la lana abbiamo anche la marca Zarina di filatura di Crosa con una qualità eccellente made in Italy e sempre un filato adatto per i bebè o ancora potete usare il cotone e in questo caso per esempio abbiamo il Miss Baby Soft Color che è un 100% cotone appunto dedicato ai bimbi molto morbido e fresco. Tutti i link utili li trovate come sempre sotto al video nell'info box. Passiamo quindi alla realizzazione del nostro progetto. Io ho realizzato la mia copertina nella taglia da prematuri e quindi il lato della copertina misura 62 cm circa, quindi è una coperta da 62x62. Ho usato due gomitoli del colore arancione, quindi il colore principale come vedete, mi è avanzato proprio un pezzettino piccolissimo e ho usato poco più di un gomitolo quindi anche per gli altri due colori, per poco non ce l'ho fatta con un gomitolo. Di solito, perché ve lo dico, perché di solito si realizzano magari di più le copertine per bebè più grandi, quindi o da 80x80 cm o da 70x80 cm o anche 90x90 cm, quindi vi volevo giusto dare le indicazioni del mio consumo su una coperta da 60x60 cm circa. Quindi se usate una misura più grande per la vostra coperta, di conseguenza prendete un gomitolo in più per ogni colore e vi basterà. Inizieremo a lavorare la copertina partendo da una punta andando a realizzare gli aumenti e quando su questo lato raggiungiamo i centimetri desiderati andiamo poi a diminuire, quindi faremo delle diminuzioni fino a formare l'altra punta della coperta e alla fine aggiungiamo il bordino ad uncinetto. Iniziamo avviando tre maglie sul nostro ferro con uno dei colori secondari, quindi il colore principale lo mettete un attimino da parte e iniziamo con uno degli altri colori che avete scelto. Quindi montiamo tre punti sui ferri. giriamo il nostro ferro e andiamo a lavorare tre maglie a diritto. giriamo il nostro ferro e per la prossima riga andiamo a lavorare un diritto, un gettato e due diritti. Giriamo il nostro ferro e adesso questa riga che vi mostrerò adesso è quella che ripetiamo fino a quando abbiamo 23 maglie sul nostro ferro. Quindi andiamo a fare un diritto, un gettato e poi lavoriamo a diritto tutte le maglie fino a quando ci troviamo due punti prima della fine del ferro. In questo caso avevo un solo diritto da fare. Qui adesso sono rimasti gli ultimi due punti e se guardiamo bene abbiamo il gettato e poi un diritto. Ora questo gettato lo dobbiamo lavorare a diritto ritorto per chiudere in modo che non si forma il forellino. Quindi prendiamo il punto in questa maniera, da dietro praticamente, e lavoriamo un diritto. E l'ultimo punto lo lavoriamo di nuovo a diritto. Giriamo il ferro. Vi faccio vedere ancora un paio di volte come lavorare questa riga in modo che sia chiara per tutti. Quindi la prima maglia a diritto, un gettato, poi tutte le maglie a diritto, ma ci fermiamo prima degli ultimi due punti punti. E qua lavoriamo un diritto ritorto. Quindi prendiamo il gettato da dietro e lo lavoriamo a diritto. E l'ultimo punto a diritto. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Magari mettiamo un po' di zoom facciamo un diritto, un gettato. Diritto fino a due punti prima della fine. Due punti prima della fine lavoriamo un diritto ritorto e un diritto. E adesso dobbiamo andare avanti lavorando questa riga fino a raggiungere 23 maglie sul ferro. Io adesso ne ho fatto meno punti perché vi faccio vedere solo il campioncino. Quindi quando avete raggiunto i 23 punti tagliate il filo e lasciate ovviamente una codina e iniziamo a lavorare con il colore principale. E adesso vi mostrerò anche come nascondere la codina mentre lavorate con il nuovo colore. Quindi andiamo a lavorare la prima maglia a diritto con il nuovo colore. tiriamo un pochino le codine perché sapete che l'inizio è sempre un po' morbido. Ok, facciamo il nostro gettato. Ora prima di andare avanti ci andiamo a prendere la codina del primo colore che abbiamo utilizzato e andiamo a passarlo sopra l'attuale filo di lavorazione. Quindi in questo caso ho passato il filo verde, la codina verde, sopra al filo arancione che è quello di lavorazione. Ora lavoro il prossimo punto a diritto. Mi prendo di nuovo la codina verde e la faccio passare sopra il filo arancione. Lavoro il prossimo punto a diritto, prendo la codina verde e la faccio passare sopra il filo arancione. e vado avanti così ad incrociare praticamente sul rovescio il filo, la codina tagliata. In questo modo viene inglobata nella lavorazione e dopo mi rispamio un sacco di cuciture. ripetete questa operazione fino a quando avrete fatto circa dieci punti di lavorazione. In questo modo la codina è ben fissata. e quindi vedete che stiamo lavorando tutti i punti a diritto ovviamente anche qui quando raggiungo gli ultimi due punti lavoro la penultima ovvero il nostro gettato a diritto ritorto e l'ultimo punto a diritto. adesso c'è la variazione quindi andiamo a lavorare una parte a maglia rasata quando lavoriamo con il colore principale andremo a fare questa parte a maglia rasata quindi per la prossima riga lavoriamo un diritto un gettato e poi lavoriamo un diritto ritorto sopra il nostro gettato e adesso tutti i punti a rovescio fino a due maglie prima della fine del ferro. ok ci troviamo qua alla fine del ferro quindi lavoriamo un diritto ritorto sopra il nostro gettato e un diritto nell'ultima maglia giriamo il ferro e queste sono le due righe che dovete adesso ripetere per tutta la parte a maglia rasata però facciamolo ancora insieme quindi lavoro un diritto e faccio un gettato quando mi trovo sul diritto del lavoro adesso mi vado ad incrociare anche la codina che mi rimasta libera del colore arancione quindi semplicemente passo la codina sopra il filo di lavorazione lavoro il prossimo punto a diritto faccio incrociare la codina diritto incrocio diritto adesso vado avanti a diritto tanto e su solo un campioncino ok due maglie prima della fine mi ricordo di fare il diritto ritorto sul gettato e un diritto nell'ultimo punto giro il lavoro e adesso vi faccio vedere guardate qui abbiamo le nostre codine inglobate quindi adesso possiamo anche andare a tagliare l'eccesso 1 e 2 se fate questo durante la lavorazione alla fine non vi trovate con tante codine da cucire ok torniamo alla seconda riga del motivo a maglia rasata quindi lavoriamo un diritto un gettato un diritto poi tutte le maglie a rovescio fino a due punti prima della fine della riga poi lavoriamo un diritto ritorto un diritto e un diritto e adesso continuiamo a lavorare a maglia rasata queste due righe quindi dobbiamo fare sempre 12 righe a maglia rasata con il colore principale dopodiché lavoriamo 12 righe a maglia legaccio con uno dei colori contrastanti che abbiamo scelto quindi se guardiamo sulla nostra copertina finita abbiamo iniziato con tre maglie sui ferri abbiamo lavorato a maglia legaccio fino a raggiungere 23 punti e poi abbiamo lavorato 12 righe a maglia legaccio 12 righe a maglia rasata facendo sempre gli aumenti laterali come vi ho spiegato e adesso dovete proseguire a fare 12 righe a maglia legaccio quindi tutti i ferri a diritto facendo sempre le solite accortezze per gli aumenti come abbiamo anche fatto qui poi di nuovo 12 righe a maglia legaccio e poi di nuovo 12 righe a maglia legaccio e così andate avanti ad alternare le righe a maglia rasata e a maglia legaccio fino a quando quindi voi vedete il lavoro così davanti a voi però dovete poi andare a misurare in questo senso la lunghezza della vostra copertina in questo senso dovete raggiungere la lunghezza desiderata che nel mio caso erano 60 cm quando ho raggiunto i 60 cm ho iniziato a fare le diminuzioni e adesso vi mostrerò come farli terminate la parte più larga della vostra coperta sempre con un punto a legaccio e dovete lavorare le vostre 12 righe a legaccio in modo da ritrovarvi di nuovo sul diritto del lavoro quando iniziate a fare di nuovo la parte con la maglia rasata quindi ritorniamo ad usare il nostro colore principale e adesso facciamo le diminuzioni nel seguente modo la prima maglia la lavoriamo a diritto poi lavoriamo due diritti insieme quindi prendiamo due maglie allo stesso tempo e li chiudiamo a diritto facendo così una diminuzione poi lavoriamo tutte le maglie a diritto e ci fermiamo tre maglie prima della fine del ferro quindi tutti i punti a diritto e ci fermiamo tre punti prima della fine ora facciamo una cavallata semplice quindi lavoriamo cioè passiamo un punto il seguente lo lavoriamo a diritto ritorto come sempre vedete qua abbiamo il nostro gettato lo lavoriamo a diritto ritorto allora vediamo se riesco a prenderlo ok passiamo la maglia che abbiamo passato prima sopra all'ultimo punto che abbiamo lavorato e così abbiamo fatto un accavallato semplice e lavoriamo un diritto nell'ultimo punto giriamo il lavoro e per la seconda riga delle diminuzioni a maglia legaccio lavoriamo due punti a diritto poi tutte le maglie a rovescio e ci fermiamo prima degli ultimi due punti che abbiamo sul ferro ok quando abbiamo lavorato tutti i punti a rovescio e abbiamo gli ultimi due punti li lavoriamo a diritto vediamolo ancora una volta insieme queste due righe quindi quando ci troviamo sul diritto del lavoro lavoriamo il primo punto a diritto e poi facciamo una diminuzione lavorando due maglie insieme a diritto ora lavoriamo tutti i punti a diritto fino a tre maglie prima della fine del ferro ok qui adesso lavoriamo un accavallato semplice quindi passiamo una maglia la seguente la lavoriamo a diritto riprendiamo la maglia passata e la facciamo scivolare sopra l'ultima maglia lavorata e facciamo un diritto nell'ultimo punto giriamo il lavoro e vi faccio vedere anche la seconda riga che la facciamo sul lato rovescio del lavoro della nostra copertina lavoriamo i primi due punti a diritto poi tutti i punti a rovescio e gli ultimi due punti della riga li lavoriamo a diritto anche qui come abbiamo fatto prima ma dobbiamo lavorare 12 ferri con il colore principale a maglia rasata e poi lavoriamo 12 ferri a maglia legaccio con il secondo colore ora vi faccio vedere come fare le diminuzioni anche con il secondo colore quindi prendiamo uno dei colori secondari e ovviamente ci troviamo sul diritto del lavoro quando facciamo il cambio del colore lavoriamo la prima maglia a diritto poi lavoriamo due maglie insieme a diritto e adesso tutti i punti a diritto e ci fermiamo tre maglie prima della fine del ferro ok anche qui lavoriamo una cavallata quindi passiamo una maglia lavoriamo la seguente a diritto riprendiamo la maglia passata e la facciamo scivolare sull'ultimo punto lavorato e concludiamo la riga con un punto a diritto quindi vedete è uguale alla riga di diminuzione che abbiamo fatto nella parte a maglia rasata adesso la prossima riga la seconda riga della parte a legaccio è semplicissima lavoriamo semplicemente tutti i punti a diritto quindi vedete è molto facile anche per la maglia a legaccio andiamo a lavorare 12 righe ok e andiamo avanti così a chiudere la nostra copertina quando ci troviamo ad avere solo 23 punti sul nostro ferro iniziamo a lavorare la seconda punta quindi andiamo a lavorare le righe a maglia a legaccio con uno dei colori secondari e chiudiamo le maglie fino a quando abbiamo solo 3 maglie sul ferro quando abbiamo solo 3 punti sul ferro andiamo a chiudere quindi lavoriamo due punti a diritto facciamo scivolare il primo punto sopra il secondo lavoriamo un altro punto a diritto e facciamo scivolare la maglia sull'ultimo punto ripassiamo il filo attraverso l'asola e senza tagliare la codina possiamo andare a lavorare il bordino all'uncinetto se vogliamo altrimenti potete anche tagliare la codina per il bordino all'uncinetto non vi faccio il tutorial perché è davvero semplice un classico bordino ho fatto una riga tutta a maglia bassa passando attraverso i punti della lavorazione e l'ho fatto con il colore verde poi ho fatto con il colore blu un'altra riga appunto ventaglietto quindi ho lavorato una maglia bassissima ho saltato due maglie basse e nella seguente maglia bassa ho lavorato cinque maglie alte poi ho saltato due maglie basse ho fatto una maglia bassissima nella seguente maglia bassa e questo si ripete per tutta la copertina quindi saltiamo due punti facciamo cinque maglie alte nel seguente punto saltiamo due punti facciamo una maglia bassissima nel seguente punto e ripetiamo questa sequenza per tutta la lavorazione spero che questo tutorial vi sia piaciuto come sempre vi ricordo che tutti i link utili sono nell'info box sotto a questo video e se realizzate questa copertina spero che mi tagate su Instagram quando fate vedere le vostre foto usate l'hashtag filatiromancefriends così vi trovo oppure condividete la foto della vostra creazione nel mio gruppo Facebook uncinetto, maglia e filati con Crochet Romance vi lascio i link nell'info box ci vediamo presto iscrivetevi al canale e lasciatemi un pollicino in su ciao